Se avete bisogno di crediti a prezzi bassissimi, passate nel link in descrizione Preparatevi, perché ho fatto due squadre E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi Arriveremo in Divisione 5 e vinceremo il titolo della Divisione 6 Grazie a questa squadra che mi avete suggerito voi Ma soprattutto grazie alla squadra più forte del gioco Questa! E la vedrete nella seconda partita Ma oggi voglio iniziare con la espagnola 13.000 mi piace, prossimo episodio E fatemi sapere anche se volete lo squad builder di tutte e due le squadre che vi farò vedere oggi Mi raccomando continuate a suggerirmi i vostri giocatori, varie squadre da fare E anche i vostri bomber per caso, perché bomber per caso sta tornando Adesso siamo prontissimi e carichissimi con luce Voglio subito tre punti E ragazzi, mentre cercare la partita come al solito vi ricordo Se mancano pochi giorni che sarò presente al videogame show di Napoli Alla vostra d'Oltremare, quindi venite numerosi In descrizione trovate tutte le info e anche come acquistare biglietti Ci vediamo lì e vi sfiderò a FIFA Quindi preparatevi Il primo avversario della giornata è lui L'Italia baggata Ma noi abbiamo l'Espanyol Attenzione, c'è Uce da solo, Cerci lo vede Corri Uce, vai Uce sei da solo Vai Uce, no, corri di più Mi sa che devo mettere Masukic Attenzione, Rodriguez entra in aria Rodriguez con le skill Cerca il numero Rigore, è la rigore Brutti ladri Rodriguez, vede Uce Uce in aria di rigore Uce con le skill Se ne va Uce Mamma che gol Uce Grandissimo giocatore È tornato Pisellone Uce 1-0 Un gol meraviglioso ragazzi Skill spagnole Boom Si gira E la mette all'angolino Subito al secondo, dai Occhio No, no, no da solo No, no Sì Che sei cagato Mertens Rodriguez Si scarta l'avversario E pesca Cerci E ma non riesce a segnare Annaggia li Cerci No, fermatelo No, no, no Gol cagato Gol subito No Oddio mio Non si può Non si può Fa un culo Un tiro un gol Mo ce penso io con le skill Oh, che cazzarola fai Barbo Mi sposta che tira Ma vattene a pigliando il culo Ma a te a che tira Ai barbo Ai bagati Ma vaffanculo Ah, è fuori gioco Ok Menomale Occhio al 45esimo E ai barbo Ma chi è questo? Ma perché fai gol della merda 45esimo E stavolta mi cazzo sul serio Vaffanculo Una partita dominata Sto sotto dei due gol Riprendiamoci ciò che è morto Uce Si gira Ancora Uce Con il culo Uce Ma che è sta mozzarella De bufala Che gli hai tirato Cerci vede Rodríguez Rodríguez La allarga Per Uce Vai Uce Vattene così Mi piaci Mettila in mezzo Per Cerci E non arriva Tagliela che è da solo Vai Rodríguez Non sbagliare Rodríguez 2 a 2 E adesso Voglio la vittoria Subito Andiamo a vincere Subito due sostituzioni magiche 10 minuti per vincere Vai Manzo Vai Manzo Vai Manzo Vai Manzo Chi c'è vai Ti prego Mettila dentro Mettila in mezzo Chi c'è? C'è Cerci Cazzo C'è Cerci C'è Cerci Cerci C'è Vaffanculo Andiamo così Che vittoria sudata Che vittoria voluta Cerci La mette dentro Orgoglio italiano 3 a 2 Mamma che azione Prima partita Primi 3 punti Questa squadra mi piace Siamo già in divisione 5 Ma ora andiamo a prenderci il titolo Con questa squadra E me di che è tornato Ed ha fame Conto una squadra strana Ma forte Questo da solo Che lasciate qua in da solo Oh Muslera Muslera santo No Bell'azione Bel gol Vaffanculo Mi ha fregato Cazzo Dai dai Porca miseria O Marechiano Anzi Che mi ha segnato E mo io e noi Gli facciamo male Quei Emeniche Emeniche Entra in aria Emeniche Ma chi è questo giocatore Ma chi è E vabbè Vuole un gol E se lo prende così Pisellone Emeniche Fa subito l'1-1 Emeniche risponde ad Amsic E ora Subito il 2-1 Vai Dumbia Vai Dumbia Rigore Rigore Oh Me l'ha steso Ma che cazzo Secondo tempo Vai Emeniche Vai Ok Guain Ok Guain No I gol della merda No I gol della merda No No però Vaffanculo Vai Emeniche Ripareggia subito Vai Dumbia Sei da solo Dumbia Dumbia Mettila dentro Maledetto Dai a Dumbia Bravissimo Vai Dumbia No Vai Vai No Iguain Tutto da solo No Iguain No Iguain No 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 Ma guarda quello Che si rompe A centro campo Certo Dai fai il gol Della merda Vaffanculo Abbiamo perso Ma chi se ne frega Tanto siamo già in divisione 5 Però Pomerode E siamo arrivati in quinta divisione Vai Emeniche Vinci la prima partita Voglio cominciare bene La quinta divisione Emeniche vede Dumbia In profondità Ancora Dumbia Che si gira Risterza e si rigira Gira gira Dumbia E perde Palla Utaka la mette in mezzo Per Dumbia Dumbia 1 a 0 La mette dentro E andiamo così Iniziamo bene Voglio subito il secondo gol Adesso Immediatamente Pisellone Dumbia Presente La mette dentro Boom Attenzione perché Emeniche ha fame Emeniche ha molta fame Emen No Che traversa Occhio a questo che corre Vai Santana Vai Santana Tienilo Ma perché non lo tiene Non lo tiene E' impossibile La fermare Mamma mia Manco fosse Ronaldo Ma chi è Dumbia Mamma che ha fatto Vai Dumbia Però metti La dentro Attenzione Emeniche Emeniche che rientra Ancora Emeniche La passa Sta pippona Sta pippona De nome Musa Vai Utaka Utaka Quanto meno te ne aspetti Lui c'è 2 a 1 Pisellone Utaka Triangolazione perfetta E andiamo così Ulk vede Dumbia Dumbia tutto solo Dumbia con il pallonetto morbido 3 a 1 Eccolo qua Il Dumbia che cercavo E andiamo così Come lo pesca bene Bam E Dumbia 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 E' andato bene 13.000 mi piace Prossimo episodio Fatemi sapere quale squadra Vi è piaciuta di più Se questa o quella Con Emeniche O se tornare alla squadra Con Emeniche Prima punta Fatemi sapere La squadra che volete vedere In un prossimo episodio A me i spagnoli Schillatori Mi sono piaciuti Cominciate a suggerirmi Il vostro bomber Per caso Noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video E vi mando Un abbraccione Un salutone E ci ricciao gente